Anche per il 2017 le marche consolidano i buoni risultati conseguiti negli ultimi anni in termini di raccolta differenziata di carta e cartone. Rispetto al 2016 la quantità di materiale recuperata rimane pressoché stabile, al di sopra delle 100.000 tonnellate, pari ad un procapite di 67,4 kg. Un dato che colloca le marche al di sopra della media nazionale. È questo quello che emerge dal ventitresimo rapporto annuale di Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica. Nel dettaglio la situazione vede la provincia di Pesaro e Urbino in vetta alla classifica, con un procapite di 77,8 kg, ben al di sopra della media fatta a registrare dal centro Italia, e con una crescita dell'8,2% rispetto al 2016. Buoni anche i livelli di intercettazione nelle province di Macerata ed Ancona, anche se con piccole flessioni rispetto al 2016. e raccolgono insieme quasi 49.000 tonnellate. In coda l'area di fermo, con una raccolta media in linea con il dato nazionale, ma in crescita di circa il 3% rispetto al 2016. Le marche rimangono tra le regioni più performanti del centro Italia, un'area che ha raggiunto ormai un discreto livello di maturità per quanto riguarda la raccolta differenziata di carta e cartone. Questo è il colmento di Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco. Interessante notare che il dato relativo al 2017 sulla crescita della raccolta differenziata nel centro Italia si allinea perfettamente a quello medio nazionale, più 1,6%, ad incidere in maniera consistente soprattutto il balzo del 6,1 compiuto dal sud. I margini di miglioramento rimangono però ancora ampi. Secondo Comieco, infatti, le tonnellate di carta e cartone in più potenzialmente intercettabili su tutto il territorio italiano sono quasi un milione.